L'artista, passato a gennaio a Soundriff denuncia, nove dati del tour su venti nelle loro casse. La SIAI continua a incassare in modo in debito i diritti su miei concerti. Non sanno con chi hanno a che fare, chiederò un decreto ingiuntivo per riaverli. Federico Leonardo Lucia, per Il Mondo Fedez, credeva di aver chiuso una volta per tutte con la società autori ed editori. Da gennaio l'ha lasciata, affidando la gestione dei propri diritti d'autore ai concorrenti di Soundriff. Salvo veder di lottare da SIAI i pagamenti per nove delle venti dati del suo ilunda axe Fedez Summertur. Hanno lanciato una propaganda del terrore verso gli organizzatori dei concerti per continuare a farsi versare le royalties. Replica la SIAI, quei brani hanno tanti padri, dobbiamo rappresentarli tutti.